Questa posizione è stata raggiunta da Gary Kasparofo con i nero contro Robert Uvler. Il bianco decise di catturare questo pedone G7 che non era difeso da nessuno, non dando molta importanza al fatto che il suo re sia abbastanza scoperto. Quindi Kasparofo giocò torre F8 sacrificando la propria torre e a questo punto il re del bianco deve difendere. Il re si sposta in E1 ma il nero decide di attaccarlo, quindi donna F2 e la donna continua ad attaccare questo re che adesso ha un po' di difficoltà nel difendersi perché se andasse nuovamente in E1 seguirà donna C3, scacco e la successiva arriverà alla cattura della torre. Quindi questo re si sposta su casa bianca, la donna nera lo insegue, interviene l'alfiere e adesso è una posizione veramente difficile. Dopo donna E5 c'è da dire che la partita si interrompe perché il bianco abbandonò. In caso di re C2 seguirà donna per E2, re C3 e donna matto e in caso di re B4 il nero riuscirà a creare matto giocando re B6.